Tu cosa sai delle mie emozioni se ti trovo qui davanti con gli occhi bagnati con gli occhi bagnati e 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 gli occhi con gli occhi bagnati e gli occhi con gli occhi con gli occhi bagnati con gli occhi bagnati con gli occhi 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 e il nome della Pianfa, Loga Neascur, Sacul Mare Grazie a te! Grazie a tutti. Grazie a tutti.